Siamo al calcio, è un momento difficile per il Toro che si avvicina sempre di più alla Serie A. Il capitano Rolando Bianchi chiede la massima concentrazione. La voglia di giocare in Serie A da 1 a 101 milioni torna a parlare. Rolando Bianchi lo ha fatto ieri sera durante la cena di sostegno della squadra femminile dei Granata. Lo fa dopo tre settimane di forzata in attività con in tasca due bonus come i 45 minuti con la regina. Il recupero col Sassuolo è il sogno di salire a Superga il prossimo 4 maggio con la promozione in tasca. Sarà molto impegnativo perché giocare otto partite in tre settimane non è facile. Però siamo un gruppo molto ampio quindi ci sarà modo per tutti di poter giocare, di poter dare contributo. Perché sappiamo che adesso c'è la volata finale quindi oramai non si scherza più. Sabato si ripartirà da Bari. L'ambiente soffre dell'indagine sul calcio scommessa e condotta dalla Procura della Repubblica di Bari che ha coinvolto alcuni giocatori ma Bianchi vuole pensare solo all'impegno sul campo. Il campionato di Serie B è talmente duro e lungo che anche i piccoli vantaggi bisogna saperli sfruttare. Bisogna però essere concentrati al massimo e sapere che sarà molto duro. E stasera appuntamento benefico per i Granata all'evento al ristorante Mucca Pazza di Pino Torinese un gol per Greta. Cena in favore della piccola Greta affetta da una patologia degenerativa molto rara parteciperanno giocatori e vecchie glorie.